Gentili telespettatori, buona giornata. Giancarlo Giorgetti, il tranquillo Giorgetti annienta Roberto Speranza. C'è un retroscena sulla rissa in cabina di regia, proprio ieri. Dimmi tu chi rappresenti, avrebbe detto Giorgetti a Roby Speranza. Quindi una tensione altissima ieri 16 aprile nella discussione tra il blocco di sinistra e i leghisti sul tema delle riaperture, che resta il principale problema politico all'interno della maggioranza. Giancarlo Giorgetti, ministro della Lega, allo sviluppo economico non usa mezzi termini, riporta proprio il Corriere della Sera in un retroscena. Dice così, allora diciamolo che il nodo è Matteo Salvini, ma sappiate che così non riuscirò più a tacitare le polemiche. Ci sono regioni che da due settimane dovrebbero stare in zona gialla e che per altre due settimane invece dovrebbero stare ancora in zona arancione. Dov'è quindi l'evidenza dei dati? Ha sbottato appunto Giorgetti. Beh, questa volta Giorgetti era particolarmente agguerrito, riferisce chi ha partecipato a questa riunione, comunica il giornale La Stampa. Ad un certo punto Giorgetti si rivolge direttamente a Speranza e gli ha chiesto di mostrare i dati scientifici che avrebbero impedito le riaperture almeno in alcune regioni. Noi dobbiamo rispondere a chi non ce la fa più. Noi della Lega rappresentiamo certi mondi economici. Tu chi rappresenti? Ha detto Giorgetti a Speranza. Ma tu chi rappresenti? Giusto? Tu chi rappresenti, Speranza? Rappresenti l'EU? Liberi e uguali. Ma liberi da chi? Uguali a che cosa? Chi rappresenti? L'1%? L'1,5%? La Lega deve rendere conto ai suoi elettori, a gran parte dell'elettorato, del mondo produttivo. Dice, dove sono i numeri che giustificano, giustamente dice Giorgetti, che giustificano questo persistere delle chiusure? Quali numeri giustificano? Visto che si è sempre detto, se i numeri ci sono e sono buoni, si apre. Se non sono buoni, si rimane chiuso. Quindi per dire che si rimane chiusi, ci devono essere dei numeri in peggioramento. E Giorgetti dice, dimmi, quali sono questi numeri in peggioramento? Dove sono le evidenze scientifiche? Ovviamente Speranza, balbettante, non ha saputo rispondere. E Giorgetti ha capito e ha detto chiaramente, ma qui il nodo è Matteo Salvini, diciamolo. Non c'entrano niente i numeri. È un dispetto verso Matteo Salvini. Ma si può tenere chiuso un paese per fare un dispetto a Matteo Salvini? E così c'è stata una lunga discussione, come l'ha definita il premier Mario Draghi, una contrapposizione tra due ragioni. Da un lato la spinta per le riaperture, perché la gente è sfinita psicologicamente ed economicamente. Quindi Giorgetti che chiede se bisogna dar retta agli indicatori o alle nostre paure. In effetti, se si vuole chiudere senza dati, significa che si dar retta alle paure e non agli indicatori. Dall'altro il timore di una nuova escalation di contagi, con Dario Franceschini che teme i bar e i ristoranti perché lì si abbassa la mascherina. Alla fine è stato Draghi a trovare la sintesi, un po' come Conte che faceva le sintesi, le fotosintesi clorofiliane come le piante. Così Draghi trova la sintesi tra due posizioni contrapposte nella cabina di regia. Visto che questo è nato come il governo antidepressivo e il ragionamento, il Presidente del Consiglio ha deciso di prendersi un rischio ragionato. Insomma, Speranza è stato sconfitto, se vogliamo dirla così, anche se Draghi in conferenza stampa ha cercato di tutelarlo. Le critiche nei suoi confronti sono infondate e ingiustificate, dice appunto. Però la realtà è che qua non è che vince o perde qualcuno. Qui c'è uno scontro ideologico. Voi direte, beh, uno scontro ideologico vuol dire che ci sono due posizioni ideologiche che si scontrano. E no, qui c'è una sola posizione ideologica che si scontra contro il buonsenso. Voi direte, perché? Cosa dici? Dico che dov'è l'ideologia in questa decisione. L'ideologia è quella di sinistra, quella di Leo, del comunista Speranza, che senza dati, senza evidenze scientifiche, ha voluto chiudere fino al 26 tutta l'Italia in zona arancione. Perché ci sono molte regioni che in questo momento sarebbero in zona gialla, attività che potrebbero già riaprire. Quindi la linea di speranza, del comunista Speranza, era quella di chiudere l'Italia a prescindere dai dati. Quando si è sempre detto, noi, e anche diceva anche Draghi, io guardo solo i dati. Non è che dico è pensabile o impensabile. Io guardo i dati. È così. È così. Se guardiamo i dati, non c'è nessun motivo per tenere chiuso. È così. Visto che siamo chiusi fino al 26, siamo chiusi per una questione ideologica. Qual è la questione ideologica? L'ha detta chiaramente Giorgetti. Qui il problema è Salvini, non i numeri. Qui il problema è assolutamente Salvini. Cioè viene chiuso solo per dar contro al centro-destra. Come se realmente chi vuole chiudere è la sinistra e chi vuole aprire è la destra. Una divisione assolutamente infantile, sempliciotta, semplicistica. Ci siamo ridotti veramente a questo, a dividere il tutto tra centro-destra e centro-sinistra. come se un uomo o una donna di centro-destra pensa all'opposto in tutto riferendosi a quelli di centro-sinistra. Possibile che siano due mondi completamente opposti su tutto? Sul colore della macchina da comprare, su cosa faccio al mare, dove vado al mare. Ma non è possibile. Capite che questo cercare di incasellare tutto in centro-destra e centro-sinistra è una sciocchezza di grandezza industriale. È una stupidaggine. Però questo avviene, avviene nel governo, avviene nel Consiglio dei Ministri, dove si cerca di chiudere l'Italia a prescindere. Solo perché Salvini dice aprire, noi dobbiamo dire chiudere. Capite che è una stupidaggine senza precedenti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Se volete ci sono anche gli abbonamenti al canale. C'è l'abbonamento da un euro con il quale potete vedere i video ore prima che vengano pubblicati. O l'abbonamento da tre euro con il quale potete vedere oltre ai video ore prima anche dei video dedicati destinati solo a chi ha questo abbonamento. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.